Il forum Italia-Africa si è rivelata una passerella, una foto opportunity per la presidente Meloni ma privo di sostanziali significati. Il lancio del piano Mattei è stato sostanzialmente la dimostrazione di quanto piccola sia l'Italia a confronto dell'Africa. Un piano in cinque anni con 5,5 miliardi di dotazione finanziaria. Se noi pensiamo che l'Italia da sola ne ha ricevuti 200 miliardi dal Next Generation EU capite bene che l'idea che il piano Mattei da 5,5 miliardi per tutta l'Africa possa dare un contributo serio alla stabilizzazione del continente o addirittura garantire il diritto a non emigrare degli africani come sostenuto dalla presidente Meloni è semplicemente ridicolo. Al massimo dimostra come l'unico livello di governo con cui possiamo provare a contribuire a stabilizzare l'Africa è quello europeo. Servirebbe un grande piano europeo per l'Africa ma servirebbe anche una capacità d'azione dell'Europa in termini politica estera, sicurezza e difesa per poterlo realizzare. Ecco dunque che tutto questo ci mostra come questa è stata una grande opportunità propagandistica da parte del governo italiano ma certo non è questa la soluzione ai problemi dell'Africa né ai problemi delle migrazioni. È stato peraltro sconcertante sentire il presidente della commissione dell'Unione africana dire siamo pronti a discutere il piano Mattei ci sarebbe piaciuto essere consultati prima del suo lancio a testimonianza di quanto è stemporanea sia l'iniziativa italiana che da un lato a parole vuole essere un equal partnership che coinvolge l'Africa su un piano di parità eccetera dall'altro canto è stata programmata dall'Italia senza nemmeno consultare gli africani almeno a quello che viene detto dal presidente della commissione dell'Unione africana cioè l'organizzazione che riunisce tutti gli stati africani. Da questo punto di vista quindi possiamo dire che quella che doveva essere una grande vetrina ci mostra anche che è una grande vetrina delle vanità dell'Italia come di qualunque altro paese europeo se vuole provare a essere un attore sul piano internazionale a maggior ragione di fronte a un continente grande come l'Africa. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!